Ho avuto la fortuna di essere coinvolto fino alla metà degli anni 90 da un'azienda tedesca per dei compressori per idrogeno e quindi negli ultimi più di 20 anni abbiamo continuamente migliorato il prodotto selezionando materiali adeguati, aumentando le prestazioni e le pressioni di esercizio per poter realizzare le stazioni di rifornimento per i veicoli a idrogeno del futuro. Come vedete che sta reagendo il territorio a questo cambiamento? Con una grandissima sorpresa ho notato che non eravamo soli ma tantissime persone stavano pensando a una rivoluzione verso l'idrogeno quindi portare l'idrogeno nelle case e soprattutto nei trasporti. Ci sono istituzioni, laboratori e imprese che si sono conosciute e si stanno unendo per fare massa critica.